oggi nel vostro caso guardate il video domani ieri ho fatto questa domanda su sulla community e avete risposto in larga percentuale william bonac che qui vedete nel suo discorso di premiazione al boston pro 2020 abbastanza commosso in lacrime ha ringraziato ched nichols e ha detto che adesso dopo che ha fatto questi due contest arnold e boston pro avrà tempo per sistemare la ginecomastia e lo stomaco disteso o pronunziato quindi si è anche esposto pubblicamente diciamo non si è nascosto dietro un dito non ha fatto finta di non avere problemi come magari fa altra gente e ha detto appunto che aveva questi due problemi promette gli sono anche stati evidenziati dai giudici immagino perché i bodybuilder parlano con i giudici e che adesso molto onestamente molto umilmente ne vedo senso la parola tra le lacrime ha detto che avrà tempo per sistemarlo per essere al top ha ringraziato ched nichols il suo nuovo coach ha parlato del virus cinese ha detto come in questi due anni ha quasi pensato anzi era molto vicino a ritirarsi dal bodybuilding e invece è tornato smentendo tutti ma è compreso con due ottime prestazioni all'arnold e al boston pro un william bonac decisamente ritrovato dopo diciamo il purgatorio quando sta preparando da sé dopo che ha mollato onil hill cos'era un paio di anni fa mi pare e adesso con ced nichols pare che abbia trovato abbia chiuso il cerchio comunque nella domanda che ho fatto era chi è secondo voi miglior bodybuilder ma migliore nel senso chi vi è piaciuto di più chi secondo voi era migliore chi aveva l'acconciatura migliore c'è una domanda molto molto ampia però avete risposto quasi tutti william bonac mi sarei aspettato un samson dow da visto come la gente è ossessionata dall'estetica però sono contento che sia stato scelto william bonac perché ne sto parlando molto di lui e penso che di starne parlando meritatamente perché se lo merita e questa è la routine al boston pro fornita da muscle art development quindi dicevo molto umile non si è nascosto dietro un dito ha vinto meritatamente al boston pro io l'avrei fatto vincere anche all'arnold come forse avrete immaginato visto quello che ho detto negli ultimi video è raro che un bodybuilder dica apertamente certe cose che sono un po tabù nel mondo del bodybuilding cioè quando mai in genere sentiamo parlare di ginecomastia o stomaco disteso da parte dei diretti interessati cioè dei bodybuilder praticamente mai ma bonac è uno che non ha peli sulla lingua più volte nel corso degli anni ha dimostrato di avere un carattere forte mi ricordo cos'era sei o sette anni fa avevo avuto una discussione con lui marco cioè lui marco è stato invitato in kuwait da bader buddai erca vocia della oxygen gym della camel crew dell'anabolic chicken non mi ricordo cosa fosse successo forse lui marco aveva fatto un commento ma neanche cattivo su bonac e bonac è andato all'expo quasi lo prendeva a colpi bonac a lui marco e poi aveva fatto quel video su nel hill e aveva fatto vedere la sua casa diceva che praticamente lui se la passava male mentre nel hill se la passava bene in sostanza poi se spulciate un po il mio canale trovate anche questo discorso qua questa bega tra bonac e nel hill comunque condivido la vostra scelta su william bonac c'è il video si facendo oggi che è giovedì voi lo vedrete venerdì ma penso che sarebbe cambiato poco da giovedì a venerdì perché se lo merita ha un carattere forte non ha peli sulla lingua io stimo tantissimo le persone così mi piacciono proprio quelli che vanno non dico per forza contro le regole però che hanno personalità e non hanno paura di esporsi e bonac è uno che si espone in genere sotto tanti punti di vista a prescindere che sia emotivamente piangendo come in questo caso essendo molto umile oppure attaccando qualcuno e poi si espone anche sul palco perché comunque un bodybuilder eccezionale ha una schiena davvero stratosferica e con schiena intendo la posa posteriore non solo la schiena la schiena è fantastica però poi scendiamo anche glutei femorali anche dei bei polpacci quindi si merita questa vittoria si merita anche il supporto per quanto piccolo di gente come me e come voi quindi veri compliments buonac grazie a tutti